E' un bilancio in chiaro scuro quello dei primi sei mesi del 2018 di Coldiretti Puglia. Sulla nostra regione il maltempo non ha dato tregua e tra bombe d'acqua, violente grandinate e trombe d'aria i danni sono stati ingenti, tanto da aver ridotto drasticamente le produzioni olivicole, vinicole e ortofrutticole. Lo ha reso noto il presidente di Coldiretti Puglia Gianni Cantele nel corso dell'Assemblea Sociale sui primi sei mesi di annata agraria 2018. Il 2017 che malgrado anche le difficoltà di siccita ed è anche di un inizio molto freddo aveva portato a un recupero il 2018 è oggettivamente un'annata difficile, un'annata resa complessa da quelli che sono gli effetti delle bizze che purtroppo il global warming ci sta portando sempre più frequentemente. Questo ci deve portare a ragionare l'agricoltura sempre in termini sempre più proattivi andandoci a cercare gli strumenti che possono garantire il reddito delle imprese. Questi purtroppo sono fenomeni ai quali dobbiamo fare sicuramente maggiore attenzione non voglio dire che dobbiamo fare l'abitudine ma dobbiamo essere proattivi. In questo sicuramente assicurazione del reddito delle imprese ci sono strumenti nuovi ma dobbiamo anche pensare a quello che è un'assicurazione del reddito delle imprese attraverso i contratti di filiera. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, questo deve continuare perché è l'unico modo per creare proprio quell'effetto tampone su quelle che sono le bizze climatiche e soprattutto quelli che possono essere e sono sempre in agguato i fenomeni di speculazione a livello di mercato che mettono e metterebbero sempre in crisi le nostre imprese che sono la parte più debole. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione per difenderle. Nel momento in cui il valore aggiunto delle nostre produzioni non è ben ripartito lungo la filiera ecco che il mondo agricolo è sicuramente perdente. Dobbiamo lavorare in quella direzione, dobbiamo lavorare sempre sull'identificazione e l'identità delle nostre produzioni attraverso la richiesta di etichettature che siano conformi alla norma e soprattutto chiedere che queste norme vengano prorogate perché l'etichettatura di origine del prodotto è il modo migliore e il modo più sicuro per le nostre imprese di veder riconosciuto il valore delle proprie produzioni. Abbiamo sicuramente in tutti i settori avuto dei problemi. Il gelo tardivo di quest'anno ha compromesso una parte importante della produzione dell'olio e in questo dobbiamo anche stare molto attenti e lanciamo l'allarme per quelli che potranno essere dei fenomeni oltre che speculativi ma fenomeni delle vere e proprie frodi perché verrà portato in Italia olio da altri territori di produzione spacciandolo per italiano. Anche il mondo degli ortaggi che ha avuto anche un inizio della stagione molto buona con le primizie ha subito dei grossi danni per quanto riguarda la parte legata alle piogge, alle grandinate che purtroppo hanno colpito più zone della nostra regione. Quindi non ci sono delle colture esenti da danni, anche le colture ceralicole hanno subito danni anche dalle eccessive piogge e dalle grandinate e oggi siamo di fronte al momento della raccolta dove anche in questo caso fermo restando l'importanza dei rapporti di filiera che stanno dando delle soddisfazioni, già delle prime soddisfazioni ai nostri agricoltori ma dobbiamo sempre stare attenti a quelli che saranno i fenomeni speculativi che porteranno sicuramente a tensioni sui prezzi. Noi staremo molto attenti e vigileremo su questo. Meno prodotto ma la qualità non è cambiata? Io credo che la professionalità da parte delle imprese, il fatto che si stia introducendo sempre di più concetti anche tecnologici avanzati, ormai l'agricoltura 4.0 deve essere un obiettivo anche in questo senso, deve consentire di tenere alti gli standard, i mercati ce lo richiedono e quindi dobbiamo fare in modo che al netto di quelle che possono essere distruttive situazioni dovute alle bizze del meteo, però dobbiamo fare in modo che i nostri prodotti si collochino sempre su un livello qualitativo importante ed elevato proprio per dare continuità e garanzia sui mercati dove le nostre imprese operano. Un dato confortante invece è quello delle esportazioni sempre in crescita, come ha sottolineato l'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia Leonardo Di Gioia. Ci sono dati economicamente significativi per l'export, questo significa che la nostra qualità di produzione e la capacità di comunicazione stanno consentendo di trovare nuovi sbocchi e nuovi mercati, il tutto ripeto con quella aleatorietà legata a fenomeni meteorologici che però sono assolutamente intensi, frequenti e molto pericolosi. Per quanto riguarda l'attività del piano di sviluppo rurale, siamo ancora in una sorta di contenzioso permanente che vede il TAR arbitro di questa disputa, ci sono elementi nuovi perché abbiamo finalmente avviato le istruttorie e quindi in questo senso penso che per la prossima udienza saremo in grado di fornire al TAR gli elementi necessari per una decisione, cioè per capire se effettivamente ci sono stati degli agricoltori all'interno del nostro bando che hanno alterato le proprie ipotesi di performance e con questo danneggiato i ricorrenti. Devo dire che è un'attività molto delicata perché ha a che fare con le aspettative di molte imprese e che stiamo cercando di condurre col massimo della correttezza, cioè non tanto per difendere il lavoro della regione ma per difendere quella giustizia sostanziale che si deve individuare poi e tradurre poi nella possibilità di dare risorse a chi effettivamente lo merita.